E' stato accoltellato probabilmente al termine di una lite ed è morto all'arrivo in ospedale a causa delle ferite riportate. E' accaduto ieri sera a Margherita di Savoia, in pieno centro, sulla spiaggia libera di Via Valerio, sul lungo mare Cristoforo Colombo. Morto un immigrato di una quarantina d'anni di origine tunissina, ambulante, trovato da alcuni passanti riverso su di una piattaforma sulla sabbia, accanto alla sua bancarella, vicino alla quale era solito accamparsi per la notte. Questa mattina sono ben evidenti le macchie di sangue, anche la maglia utilizzata dall'uomo completamente insanguinata e forse utilizzata per tamponare le ferite al di sotto di una copertura sulla spiaggia. Almeno due, i fendenti che hanno raggiunto l'uomo al fianco destro, inutile la macchina dei soccorsi messa in moto con l'arrivo sul posto di un'equip sanitaria del 118 e l'arrivo a Margherita di un elicottero per il trasporto d'urgenza all'ospedale Riuniti di Foggia. L'uomo è deceduto all'arrivo nel nosocomio foggiano. Indagano sulla vicenda i carabinieri, già recuperate questa mattina le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, presenti proprio nei pressi della spiaggia, che avrebbero immortalato i momenti dell'aggressione. Si stringe dunque il cerchio attorno al presunto colpevole, che potrebbe essere individuato già nelle prossime ore. Grazie! Buon appetito! Grazie! Grazie.